E ora, secondo il programma, Alma Latina, arrangiamento di Andrea Ravizza. Andrea Ravizza, compositore e arrangiatore, ha cominciato gli studi classici di pianofonte, ma ben presto si è orientato verso il jazz, sotto la guida di Palmino Pia, e ha completato gli studi strumentali, avvicinandosi all'affiscinante mondo dell'arrangiamento modello. Come autore vanta numerose produzioni, sigle televisive e arrangiamenti per big band e gruppi vocali. Ultimamente si è dedicato con successo alla produzione di musiche per band. Questa sera ascolteremo un collage di tre recenti successi di musica latinoamericana. The Cup of Life, la Coppa della Vita, è una canzone registrata dal portolicano cantante Ricky Martin. A Sereie è il titolo di una celebre canzone del gruppo musicale spagnolo Last Ketchup, dal loro album di debutto, Hillas del Tomate. E per concludere, Candela, del musicista, cantante e compositore colombiano, e Stefano Salgado. Ascoltiamo ora insieme Alma Latina. Grazie. 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 Grazie.